Montorfano ha chiuso la settimana più difficile della sua carriera con la risposta che voleva e la vittoria che gli serviva. Il secondo tempo tutto cuore e grinta dei grigiorossi ha permesso all'allenatore di scacciare lo spettro dell'esonero e alla Cremonese di porre fine alla crisi di risultati. Non è stata una prova perfetta, non sono mancati gli errori, stavolta però gli episodi hanno girato finalmente a favore. Contava solo il risultato e questo è arrivato. La Cremonese non ha interpretato bene il primo tempo anche se è stata sua la prima occasione con Bassoli che di testa ha messo alto su corner di Jadid. Il nuovo Venezia targato Serena ha risposto con un tiro da fuori di Zaccagni e al 32esimo ha approfittato della solita dormita dei grigiorossi su palle inattiva per portarsi in vantaggio con Raimondi. Lo stesso Raimondi in evidente fuorigioco ha letteralmente graziato Venturi nel finale di tempo e sul capovolgimento di fronte Sales ha sgambettato in area Kirilov inducendo l'arbitro a concedere il rigore che Jadid ha trasformato pareggiando i conti. Quella della ripresa è stata tutta un'altra Cremonese per spirito grinta e tenacia e infatti al settimo è arrivata subito la rete che ha permesso ai grigiorossi di ribaltare il punteggio. Punizione di Jadid rovesciata spettacolare di Gambaretti che si è stampata sulla traversa e tapin vincente di Brighenti che ha fatto esplodere la sud. Il Venezia ha tentato il tutto per tutto e Venturi in due tempi ha sventato un'occasionissima del solito Raimondi ma l'occasione più ghiotta per pareggiare i Lagunari l'hanno sciupata al trentaduesimo quando Gambaretti è entrato in contatto con Varano in area e Pelagatti di Arezzo ha decretato un altro penalty. Greco però ha sparato in curva nord. Il finale è stato di pura sofferenza per la Cremo che è rimasta in dieci per l'espulsione di Manai che si è lamentato con l'arbitro per aver ricevuto un colpo proibito da parte di Sales ma ha esagerato quelle proteste. Prima del triplice fischio Varano ha sciupato la palla del 2 a 2 scontrandosi con Venturi che si è fatto male e ha dovuto lasciare il posto a Galli. Dopo nove minuti di recupero Pelagatti ha fischiato la fine e Montorfano è corso in campo ad abbracciare i suoi ragazzi.